Siamo tutti patrioti. Quando tu fai il ministro non è che lo fai per l'interesse di qualcun altro, lo fai per l'interesse nazionale, peraltro te lo prescrive anche la Costituzione. Ora, lo giuri, quindi è indiscutibile. Il punto è capire cos'è l'interesse nazionale. Io faccio un esempio. Orban, la Polonia, eccetera, non è tanto solo il problema dello Stato di diritto che è fondamentale, ma sono sistematicamente i posti che stanno attraendo investimenti produttivi, cioè tutte le aziende che noi vediamo chiudere, vanno lì perché tengono il costo di lavoro molto basso, usano tutto il bilancio, una parte del bilancio europeo li copre tutti gli investimenti e possono ottenere tutti i costi bassi. Allora, per esempio, dire che tu sei a favore di quei paesi molto spesso vuol dire che sei al contrario all'interesse nazionale italiano. Allora, il punto qui non è dichiararsi non patrioti. Io mi sento patriota dalla testa ai piedi. E' cosa, in che modo si traduce l'essere patrioti. Io penso che la visione che ha Giorgia Meloni del patriottismo è una visione molto retorica, ma poco fattuale, perché per esempio il suo schieramento in politica internazionale è quello che più danneggia l'Italia.